Luca Pieri è il nuovo presidente nazionale di Assofarm. Nell'Assemblea Generale tenutosi a Roma la scorsa settimana, l'attuale vicepresidente prenderà la guida della federazione. Pieri prenderà il posto di Venanzio Gizzi, che era rimasto in carica per ben 25 anni. Tra le strategie di sviluppo future dell'associazione, Pieri si è soffermato sulla necessità di spingersi verso un modello di farmacia comunale più sostenibile e digitalizzata, con l'esigenza di impostare una più moderna declinazione del rapporto fra aziende e dipendenti, alla luce soprattutto del ruolo fondamentale svolto dalle personali all'interno delle farmacie. Pieri, 58 anni, è già presidente di Aspes S.p.A., gruppo che gestisce 10 farmacie comunali tra Pesaro e Gabicemare, ed è partner della società di gestione delle 4 farmacie comunali di Ericione e delle 2 di Cattolica. Passando da Aspes e quindi dalla gestione delle farmacie comunali, possiamo dire che la capacità con cui Pesaro ha gestito nel tempo questo servizio, allargandola anche i comuni della Romagna, ha fatto sì che la presenza all'interno dell'associazione Assofarm, che rappresenta oltre 1.700 farmacie comunali a livello istituzionale in tutta Italia, arrivasse a Pesaro, arrivasse al sottoscritto dopo circa 8 anni di vicepresidenza. È un incarico prestigioso che porterà il sottoscritto, ma Pesaro in generale a sedere sui tavoli nazionali proprio della formulazione, della riprogettazione di quello che può essere il servizio sanitario nazionale ed è il ruolo che la farmacia può ricoprire in tutto questo. È una soddisfazione personale molto grande, ma credo che sia una soddisfazione che devo condividere con la società, che devo condividere con Aspes e con i farmacisti in generale, che in qualche modo hanno lavorato in questi anni facendo sì che la nostra società avesse questo ruolo così importante.